buongiorno e ben ritrovati a tutti allora come vedete questa qui davanti a me è la mia light box ve la faccio vedere un attimino come è fatta allora fate il legno praticamente qui sotto è duro qui sotto come vedete è tutto legno e poi ha le finestre dove io ho attaccato il lucido e qui ho messo dei dei bristol dovrei dipingerla fondamentalmente sarebbe meglio però non trovo mai il tempo me l'ha fatta un amico di mio padre che lavora in legno e gli ho chiesto questa cortesia è veramente buona allora detto questo torniamo a noi sabato per cui chi di noi lavora spesso il sabato dedica qualche minuto in più a se stessa o a se stesso infatti io il sabato comincio con creme cremine sfoglianti maschere e via dicendo ho fatto degli acquisti da sefora di prodotti alcuni già testati e poi vi farò vedere anche altri due referenze che uso quotidianamente allora partiamo immediatamente con questa maschera del dottor giart è una maschera coreana l'ho pagata 8 euro e 90 l'ho già provata anche se di un altro tipo è in tessuto non è proprio un tessuto sembra più una guaina tipo tipo gel è fatta in due pezzi si applica sul viso pulito si tiene in posa dai 20 ai 40 minuti e vi posso assicurare che il risultato è duraturo duraturo non tre o quattro ore anche due o tre giorni è veramente buona per il costo è veramente buona io ho 41 anni ho le rughe che abbiamo a 41 anni ho la fortuna di non soffrire né di cuperose né di pelle particolarmente sensibile fortunatamente non ho di questi problemi allergie o eritemi da contatto non ho nessun problema per cui questa è una poi questa è un'altra che ancora non ho provato proverò oggi la glam glow bubble sheet praticamente chi segue instagram forse ha si è vista comparire questa questa maschera sponsorizzata ecco serve per per una retezione molto più profonda voglio queste altre due maschere che mi hanno regalato una per le labbra e una per gli occhi sempre in tessuto poi ho comprato questo gommage scrub per il corpo alla profumazione peonia allora io l'avevo già provato ad un'altra profumazione mi sembra oceanica una cosa del genere e lo uso tranquillamente anche sul viso certo ovviamente non tutti possono applicare sul viso prodotti per il corpo dipende sempre da come la pelle reagisce ovviamente poi unito a tutto questo le due i due prodotti che spesso uso quotidianamente cioè spesso nel senso almeno due volte al giorno è questa crema della ibe josh che ho comprato da mia amica e che reputo molto buona soprattutto come consistenza perché è molto compatta è abbastanza forte insomma comunque si spande bene non unge e io mi ci trovo veramente bene rispetto a quelle troppo leggere che sì lì per lì mi danno un effetto di idratazione di freschezza ma poi rivengono fuori bu non lo so però non sono troppo leggere per me e questo siero di origine vegetale che io uso tutte le notti in abbinamento alla crema metto prima la crema e poi metto delle gocce di questo siero spando e vado a dormire mentre il giorno prima del trucco quando sto in casa metto soltanto questa allora questo è quello che volevo farvi vedere e più tardi se la luce me lo permette perché qui piove è molto buio andrò a fare il video del risultato di tutto queste maschere eccetera e makeup così vi faccio vedere i prodotti che generalmente uso vi saluto e fate anche voi dei video sui prodotti miracolosi diciamo che generalmente usate ciao alla prossima